Buongiorno ragazzi, sono a Bali, a Cangu Arianna vive qua a Bali, o meglio, viene a Bali ogni inverno per passare il freddo Fa la copywriter e volevo fargli un po' di domande su come si vive qua Arianna, perché sei qua? Non lo so perché sono qua Non c'è un motivo preciso se non fosse che quando sono venuta a Bali mi sono innamorata di Bali Visto che ho iniziato a lavorare online, visto che il freddo a me proprio fa schifo Ho pensato di trascorrere gli inverni in un posto dove mi sento veramente a casa Chi è un cliente, un tuo cliente di tipo? Aziende, piccole e medie imprese italiane E cosa ti chiedono? Io soprattutto mi occupo di blog, blog e contenuti per i siti Quindi tutta scrittura orientata alla SEO, quindi indicizzazione sui motori di ricerca, cose del genere Articoli Articoli per blog oppure appunto i contenuti per le pagine statiche dei siti web Per chi magari si sta rifacendo il sito eccetera Faccio tutta scrittura focalizzata a migliorare il posizionalmento dei siti